Attimi di paura questa mattina presso l'Istituto Anselchis di Valloscalo. Degli impianchini stavano tinteggiando dei locali della scuola quando due ragazzi hanno avvertito un malore, probabilmente per le isolazioni della vernice. Immediatamente è scattato l'allarme, sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno soccorso i malcapitati. Per fortuna non si tratta di nulla di grave, entrambi hanno avuto una crisi allergica. Per uno di loro è stato necessario il trasporto presso l'ospedale San Luca di Vallo, ma potrà tornare a casa già nelle prossime ore. Non sono mancate polemiche da parte dei ragazzi per quanto accaduto. Non è normale, dice uno di loro, eseguire degli interventi di tinteggiatura quando la scuola è aperta e per di più durante l'orario di lezione. L'episodio è accaduto intorno alle 10 di questa mattina. Il ragazzo trasferito in ospedale pare che soffra di crisi d'asma.